autista delle bus aggredisce studenti della godia aningita schiaffi sputi e gomitate incidente mortale a fano perde la vita una donna di 56 anni salva la nipote di 10 il portavoce nazionale di europa verde angelo bonelli fa tappa a pesaro pesaro 2024 porta per la prima volta in italia il lavoro audiovisivo twin color basket il reto batte mateliche chiude la serie ora appuntamento con la finale playoff una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi giovedì 23 maggio che apriamo parlando delle vicende che secondo le testimonianze raccolte riguarderebbero alcuni studenti dell'istituto comprensivo gaudiano presi a schiaffi dall'autista delle bus durante una gita scolastica il tutto sarebbe emerso dalla chiamata fatta da una madre a sua figlia tra le vittime di questa vicenda vediamo il servizio di teobaldo bianchini schiaffi sputi e gomitate ai danni di studenti e studentesse di 13 anni da parte dell'autista del bus che le ha portati in gita scolastica fuori pesaro in friuli venezia giulia per questo ci troviamo qui davanti all'istituto gaudiano l'istituto comprensivo degli studenti che risulterebbero vittima di questa vicenda da quanto emergerebbe alcuni ragazzi durante il tragitto avrebbero iniziato a fare quello che tutti i giovani fanno in gita cori casino rumore ciò avrebbe portato all'esasperazione l'autista che una volta fermato l'autobus dopo che alcuni ragazzi e i docenti sarebbero scesi avrebbe abbandonato la postazione di guida per recarsi sul retro del bus raggiungendo i ragazzi più rumorosi prima li avrebbe minacciati di tirar loro un pugno poi sembrerebbe averci ripensato fino a che tra bestemmi e parole forti avrebbe deciso di tirare uno schiaffo non contento da quanto emergerebbe avrebbe poi afferrato lo studente per la maglietta e poi gli avrebbe sputato addosso per poi minacciarlo nuovamente nel caos una ragazzina nel tentativo di separare l'autista dallo studente sembra che sia rimasta ferita da una gomitata dell'adulto la vicenda è emersa soltanto il giorno dopo l'accaduto da una telefonata intercorsa tra una madre e la ragazza vittima della gomitata mentre da parte dei docenti da quanto racconterebbe la sera prima sarebbero arrivate delle rassicurazioni da lì la voce si è sparsa nella chat del gruppo dei genitori che avrebbero atteso la scolaresca l'autista al rientro dalla gita ma alle scuse dell'autista la reazione dei genitori sembrerebbe essere quella di denunciare lui e probabilmente anche l'istituto per la negligenza e la scorsa notte a fan una donna 56 anni di origine albanese è stata travolta e uccisene via a sesta strada a bellocchi la donna stava camminando sulle lato destro della corsia assieme alla nipote di dieci anni quando una vettura l'ha investita in pieno l'urto particolarmente violento non le ha lasciato scampo inutili sono stati i soccorsi delle 118 la bambina è rimasta miracolosamente illesa perché si trovava sul lato più esterno della strada con la vettura che le è passata pochi centimetri senza toccarla alla guida dell'auto una smart c'era una 35enne di fano la conducente si è fermata subito da allertati i soccorsi la vettura è stata sequestrata e la donna che risultata comunque negativa all'alcol test sarà denunciata per omicidio stradale e a santa maria delle fabrecie in strada della pozzetta proseguendo i lavori di demolizione della scuola Anna Franche in questi ultimi giorni è stato portato via tutto l'amianto rimosso e nello spazio esterno alla scuola sono ora presenti i calcinacci dell'attività propedeutica alla demolizione per l'Anna Franche c'è stata una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a completare l'affidamento dei lavori nei tempi scanditi dalle pnrr e non perdere il contributo ministeriale di 3,6 milioni di euro l'inizio dei lavori inizialmente programmato per novembre 2023 ha subito un ritardo fino alla primavera attuale a causa di un intoppo come specificato dall'assessore Riccardo Pozzi l'intervento di abbattimento verrà effettato da una dita diversa rispetto a quella che si sta occupando delle fasi propedeutiche ma il lavoro che si andrà a svolgere sarà più semplice rispetto a quello previsto per la scuola Dante Alighieri ed ora cambiamo argomento e parliamo di politica un altro leader nazionale ha infatti fatto tappa a Pesaro per sostenere i candidati del proprio partito alle elezioni amministrative ed europee si tratta di Angelo Bonelli portavoce nazionale di Europa Verde che ha espresso il suo sostegno al centro-sinistra pesarese parlando poi del ruolo che dovrà giocare l'Europa. Angelo Bonelli portavoce nazionale di Europa Verde ha fatto tappa a Pesaro questa mattina presso il cinema Astra per portare il suo sostegno ai candidati del territorio in corsa per le amministrative per le europee un'occasione che Bonelli ha colto per ribadire come a Pesaro sia importante riconfermare l'amministrazione uscente e soprattutto il ruolo fondamentale che dovrà giocare l'Europa sul tema del cambiamento climatico attaccando le destre che secondo il portavoce di Europa Verde rappresentano uno dei pericoli maggiori per le politiche ambientali. Noi siamo estremamente impegnati in questi ultimi giorni poche settimane verso il voto per le amministrative che deve riconfermare una buona amministrazione qui a Pesaro di un lavoro importante che è stato fatto Pesaro città della cultura su cui sono stati fatti importanti investimenti quindi insomma l'appello è confermare una buona amministrazione dove i Verdi hanno avuto un ruolo estremamente importante anche con la nostra assessora Maria Rosa Conti. Il punto è che queste elezioni sono elezioni fondamentali perché c'è una destra aggressiva che sta mettendo in discussione i diritti civili sociali e ambientali. La Premier Meloni si è trasformata in una imprenditrice della paura, racconta bugie per prendere risorse, voti degli italiani. In realtà la crisi climatica oggi sta mettendo in discussione il futuro delle generazioni che verranno. Mentre noi stiamo parlando ci sono alcuni comuni nel nostro paese che non hanno l'acqua potabile, è stata razionata. Domando, tutto ciò è normale? No, non è normale perché la siccità, la desertificazione sta creando grandi problemi. Il ruolo dell'Europa è fondamentale, il punto che in questo momento c'è un attacco forte della destra nazionalista e soranista che vuole mettere in discussione politiche sul clima. L'Italia è in prima fila in questo purtroppo. hanno sabotato la legge sul restauro della natura e noi abbiamo visto quello che è successo con le alluvioni. Le Marche ne sanno qualcosa, ne sa qualcosa purtroppo l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto. Insomma, quei 10 miliardi di euro dell'anno scorso che sono i danni provocati dall'alluvione sono danni che poi vengono sottratti alla contabilità dello Stato, ovvero sono risorse che non vengono investite ad esempio nella sanità o nel trasporto pubblico. Ecco, questa irresponsabilità di questa destra va fermata perché è un problema serio. Raccontano fake news, ne racconto una sola per essere stringato. La direttiva Casa Green dicono che sarà un modo per prendere i soldi degli italiani perché gli italiani non hanno 40-50 milo per fare la ristrutturazione. Ebbene, questa è una bugia. Qual è la bugia però? Perché non c'è nessun obbligo, non c'è nessuna sanzione da parte del proprietario di casa di dover ristrutturare la casa. Ecco, queste sono le bugie della Giorgia Meloni per prendere voti e per invece fare un favore alle grandi lobby energetiche che hanno visto aumentare gli estraprofitti di decine e decine di miliardi di euro mentre le famiglie e i pensionati pagano bollette triplicate. Non vogliono la transizione ecologica perché vogliono far pagare l'energia sempre di più. Il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, si sofferma poi sul tema delle alleanze che li vedono coinvolti sul territorio della provincia. Sia Pesaro e a Urbino infatti sostengono il centro-sinistra unito, a Fano invece hanno scelto di seguire la coalizione dei progressisti, distaccandosi dunque da quella guidata dai DEM. È stata una scelta che è dovuta anche a una responsabilità del Partito Democratico stesso. Noi siamo sempre quelli che vogliono costruire l'unità e infatti siamo estremamente responsabili. Nel 25 settembre del 2022 la responsabilità della vittoria delle politiche certamente non è in capa a noi che siamo stati coloro i quali fino all'ultimo hanno tentato di far ragionare sia Calenda che Conte e Enrico Letta. Non ci siamo riusciti e questo è il risultato. Dopodiché insomma a Fano la situazione è una situazione che mi auguro qualcuno rifletta del perché siamo arrivati in quelle condizioni. E continua l'epopea della Fano a Grossetto che sembra non trovare mai fine. Non appena infatti l'opera tanto attesa nella provincia di Pesaro, Urbino e nelle Marche sembrava ripartire, ecco che subito nuove ombre e nuovi dubbi sembrano rimettere tutto in discussione. A sollevarli questa volta è il Comitato di conformità della Convenzione di Aris a seguito del ricorso contro lo Stato italiano delle collettive Voci della Valle. La Convenzione di Aris è infatti un trattato internazionale che mira a garantire trasparenza e partecipazione sulle opere pubbliche nei confronti dei cittadini. Il Comitato ha al momento accolto il ricorso in fase preliminare. L'accusa sollevata è quella di non avere rispettati i principi di partecipazione pubblica e della mancanza di accessibilità alle informazioni. E dalle opere infrastrutturali passiamo alle opere artistiche parlando di Twin Color, un lavoro audiovisivo che verrà presentato per la prima volta in Italia a Pesaro in occasione della Capitale Italian Dalla Cultura 2024. Il progetto sarà diviso in due tappe, la prima venerdì 24 maggio con un live show al Teatro Sperimentale e l'altra che va invece dalle 27 maggio alle 9 di giugno presso la Sonosfera, che regalerà un'esperienza unica a tutti i visitatori. Twin Color è un progetto artistico in prima nazionale, significa che la parte live del progetto è per la prima volta che si ospita in Italia, ma soprattutto è qui a Pesaro che è nata la componente creativa ad hoc, size specific, pensata, creata per la Sonosfera. Un progetto che si inserisce nella nostra sezione che è la natura vivente della cultura, che come ormai si sa è la sezione che contiene i grandi appuntamenti internazionali della programmazione di Pesaro 2024. È un progetto a cui noi abbiamo tenuto molto e teniamo molto perché ci consente di esplorare in maniera profonda il tema della natura e della cultura. Gli artisti Murkoff e Simon Gelfius esploreranno una foresta immaginaria, quindi entreranno dentro una narrativa che ci consente di poter ipotizzare da un punto di vista creativo come l'intervento umano inaspettato dentro un ecosistema può effettivamente generare dei processi trasformativi. Quindi molto coerente con il progetto della Sonosfera, molto coerente con il nostro tema, ma soprattutto straordinariamente affascinante dal punto di vista creativo, proprio perché si utilizzano i linguaggi dei vecchi sintetizzatori, messi insieme ai linguaggi dei videogiochi, tutto questo ovviamente in una partitura sonora dal grande fascino emotivo. La musica ha diversi progetti che partono dall'anno 2020 e poi sono poi continuati fino ad oggi. Presenta diverse influenze sia ambientali ma anche soprattutto troveremo anche la voce di mia figlia perché mi ha aiutato a costruire questo progetto e quindi sentirete anche la voce di una piccola bambina. Ho utilizzato per la base diversi sintetizzatori, quindi dei synths, che riprendono anche le radici da cui sono partito negli anni 80. Ho voluto coinvolgere Simone e quindi abbiamo parlato insieme per riprendere anche dei tratti che riguardano la old school per combinare musica e parte visual ed è per questo anche che ho deciso di continuare e riprendere l'uso dei synths. È stata davvero una sfida poter creare questo progetto e soprattutto adattarlo alla sonosfera perché solitamente c'è l'immagine che è al centro e i suoni che provengono dai lati, mentre in questo caso abbiamo dovuto fare in modo che ci fosse una continuazione a 360 gradi sia per le immagini che per i suoni appunto. Dalle buone pratiche per la tutela delle ape ai primi dati del protocollo di biomonitoraggio ambientale passando per biologico e sostenibilità. Sabato 25 maggio dalle ore 9.30 al Monastero di Montebello di Isola delle Piano in programma il convegno, le ape e gli altri insetti impollinatori tra scienza, arte e storia. Una giornata di studio tutto tondo che radunerà i massimi esperti del settore. Nelle corse delle convegno saranno esposte opere degli allevi dell'Accademia di Belle Arti di Urbino. L'evento rientra nelle calendari di iniziative di Pesaro 2024. Il Lions Club Pesaro Host ed il Eleo Club sono scesi nel campo per combattere l'infida malattia agli occhi denominata ambliopia conosciuta anche come occhio pigro. La campagna di prevenzione è stata eseguita presso le scuole materne su bambini di 4 anni. L'ambliopia è un'alterazione della trasmissione del segnale nervoso all'occhio o entrambi gli occhi e colpisce il 4% della popolazione. Se la malattia viene diagnosticata in tempo può essere guarita con successo per cui è estremamente importante la prevenzione operata dal Lions Club Pesaro e dal Eleo Club. Tale servizio è nato in collaborazione con il Comune di Pesaro tramite servizi educativi pianificando una serie di visite per una per ogni scuola dell'infanzia del territorio comunale. Pace o scontro di civiltà? E' questo il titolo dell'Alezio Magistralis che Fabrizio Battistelli, sociologo dell'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Ente Olivieri, terrà martedì 28 maggio a Pesaro a Palazzo Cradari. Scopriamo qual è l'obiettivo su cui vuol far riflettere questo incontro. Siamo in una situazione particolarmente critica per tutte le emergenze che ci sono a livello di guerre, in particolare le due grandi guerre che sono sostanzialmente alle nostre frontiere diciamo, perché anche il Mediterraneo è immediata la guerra di Gaza. Su questo di solito il dibattito è tutto di natura politica. È chiaro che la componente politica è prevalente quando parliamo di guerra, però nello stesso tempo è riduttivo non affrontare tanti altri aspetti che sono collegati, in particolare quello umanitario, cioè le conseguenze tragiche degli scontri bellici sia in Ucraina invasa dalla Russia, sia a Gaza dopo il massacro compiuto da Hamas e la reazione giudicata da molti sproporzionata ad Israele, ma in ogni caso in tutte e due le situazioni le principali vittime sono proprio i civili. Quindi questo richiama anche la necessità di allargare un pochino il discorso oltre di chi è la colpa, di chi è la responsabilità, chi è stato buoni e cattivi, non perché non ci siano aggressori aggrediti, ma perché non è sufficiente a spiegare perché questa tecnicamente dicono gli psicologi la coazione a ripetere, cioè la spinta continuamente a replicare dei comportamenti di fronte a certe situazioni di emergenza. Sei sfidato da qualcuno, l'unica possibilità è quella di prendere le armi e attaccarlo o difenderti se sei attaccato. Ecco, dal punto di vista sociale ci sono anche altre dimensioni oltre quella politica che andrebbero esaminate, quella psicologica, quella culturale, sono tutti fattori che affrontati per tempo possono dare anche addito a delle possibili soluzioni. L'archivio di Sarmo è un centro studi che è stato fondato a Roma da noi allora giovani ricercatori 42 anni fa, quindi da sempre abbiamo questo nostro obiettivo di fare delle analisi delle situazioni di crisi e di guerra da un punto di vista il più possibile oggettivo con dati scientifici alla mano e su quelle costruire delle possibilità di soluzione e di alternative politiche e diplomatiche ai conflitti stessi. Questa è un'azione di divulgazione, di promozione non facile, specie in un paese come l'Italia dove devo dire non c'è molto una cultura della pace e della guerra, c'è una profonda propensione dell'opinione pubblica per la pace e soluzioni che non siano appunto belliche, che comportino gli enormi costi in termini di vite e di danni anche materiali che le guerre portano con sé, quindi c'è questa grande propensione a trovare delle soluzioni. Però poi manca un dibattito su questo. La riprova è che in piena campagna elettorale sulle elezioni europee pochissimo si sente parlare in termini di sicurezza internazionale ma anche di cooperazione internazionale e di alternative a questi due grandi conflitti e Gaza e l'Ucraina che sono veramente a pochi passi da noi e che ci possono coinvolgere con conseguenze inimmaginabili per la loro gravità. E concludiamo con lo sport. Grande note di palacanestro per l'Ital Service Loreto che ieri sera ha battuto, Matelica in gara 2 e ha chiuso la serie sulle 2 a 0. Ora per la squadra di Lorenzo Pizza arriva l'appuntamento con la finale che mette in palio la promozione alla Serie B nazionale. Ringraziamo il pubblico, le tante persone che sono venute a vederci, tanti ragazzini e un grazie a questa squadra perché hanno fatto veramente un campionato meraviglioso un playoff spettacoloso quindi noi da parte nostra, noi come presidenza, noi come dirigenza dobbiamo solo dire grazie. C'è una grande soddisfazione, sono state due partite meravigliose voglio fare i complimenti a Matelica perché sono veramente una grande squadra, un grande pubblico e adesso ci godiamo e ci giochiamo questa finale. La giochiamo con la massima tranquillità con sapevolezza, la nostra forza e la nostra concentrazione. Penso che il nostro allenatore tutto il nostro staff dirigenziale sapranno inculcare ai nostri giocatori la mentalità giusta per giocare questa finale. Abbiamo stati sopra dall'inizio alla fine, probabilmente avremmo potuto anche dare un colpo di grazia maggiore però accontentiamoci, è già importante aver raggiunto la finale, quello che volevamo dall'inizio del campionato, nonostante difficoltà adesso ci siamo e vogliamo continuare. Con lo spirito che ci crediamo, perché a parte che abbiamo già vinto là, ma quello non vuol dire niente. Noi siamo consapevoli che possiamo farcela, quindi vogliamo andare per portare in grado. Credo che il lavoro che abbiamo fatto tutto questo mese ha dato frutti, credo che la squadra gioca bene, sono tutta una buona persona, buono giocatore, credo che alla gente buona le fa una cosa buona. Ringraziare a tutti per aver venuto a guardare la partita, ci aspettiamo la finale, ci sogniamo da tutti per questo, questo non è solo nostro, è della città e da Pessaro. E allora un grande in bocca al lupo Little Service del Reto Basket che si appresta a vivere questa finale di playoff che può portare alla promozione in Serie B nazionale, era l'ultima notizia del nostro notiziario, prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo, vi ricordo gli appuntamenti su Rossini TV di questa sera alle 21.20 a causa di un problema tecnico ieri sera non è andato in onda correttamente questo nostro speciale televisivo che noi vi riproponiamo questa sera, la notte dei musei in viaggio nella storia. E a seguire alle 21.40 una nuova puntata della TV dei viaggi, questa volta ci porta in Nepal il tetto del mondo. Vi ricordo anche l'appuntamento con la nostra Rassina Stampa domani mattina in diretta alle ore 7.20, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, le repliche 8.20, 12.20, 14.20, 18.20, domani mattina ci sarà Daniele Sacchi. Ed è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona proseguimento di serata.